Questa notte intorno alle 11.00 Qui alla discoteca Cube è stato compiuto un attacco che noi crediamo sia di stampo omofobico, hanno tentato di incendiare la discoteca, per fortuna non c'era nessuno perché la discoteca è chiusa per lavori di ristrutturazione per la stagione invernale, vi vedrà ancora ospite di questo stabile, le feste di Mucca Assassina, che è la festa gay, lesbica e attrasessuale più importante della città se non d'Italia. Crediamo che questo attacco ai danni della comunità gay, lesbica e attrasessuale si inserisca in quei ultimi fatti di cronaca molto gravi che sono successi a Roma, ma non solo a Roma, in tutta Italia, pensiamo a Rimini, alla Sardegna e altri posti d'Italia, che ci danno purtroppo il polso di un'Italia poco tollerante e assolutamente molto poco attenta alla comunità GLPT. Nonostante le parole del frittempo Alemane che ha dimostrato la propria solidarietà, noi adesso chiediamo non più parole ma fatti, fatti, fatti. Grazie a tutti.